gran liquore questo amaretto di saronno originale internazionale moderno per me un amico da sempre per molti una vera scoperta quel suo profumo quel gusto inconfondibile e on the rocks lo conoscete due cubetti di ghiaccio e sopra amaretto di saronno è la grande novità in fatto di drinks ma attenzione deve essere l'amaretto di saronno originale quello della ilva per intenderci